E' primavera, svegliatevi bambine Buongiorno amici dello zoccolo duro, dello zoccolo duro Primo giorno di primavera, 21 marzo dovrebbe essere il primo giorno di primavera Se non erro, se non sbaglio, se non erro, se non sbaglio, se non erro, se non erro, se non sbaglio Parliamo, parliamo di calcio, di calcio, di calcio in questa settimana morta Dove qualcuno, tipo giornalai, si buttano nel lanciare notizie a caso pur di riempire gli spazi Noi invece ci facciamo due risate Allora, partiamo da chiarire subito una cosa Intanto, intanto vi iscrivete al canale di Roberto Palermo, il mio amico Mbare Enjoy! Vi iscrivete, vi lascio il link in descrizione perché è un amico E gli amici vengono sempre prima di tutti Stiamo facendo questo scambio di sponsorizzazioni Io sponsorizzo lui, lui sponsorizza me Che tra l'altro lui è pure più grande di me Che ha più iscritti, quindi grande vantaggio da parte mia Tra l'altro faccio lo stessa cosa con Daniel Goyogobbo Perché io, come sapete, sono amico di tutti, tutti gli youtubers Sono amico di tutti Tra l'altro ieri Roberto, amico mio caro Roberto Palermo Hai fatto un video critica, tra l'altro contro gli altri youtuber juventini E mi metti in mezzo, non mi mettete in mezzo a queste cose Che io non voglio litigare con nessuno, eh Non voglio litigare con nessuno No, ha fatto una critica perché è andato nel processo dei juventini Che loro il lunedì fanno il processo Ci sono Nino, Colpogobbo e Dani A volte ce ne sono anche altri Si vede che lui ha scritto Secondo me si sono fraintesi Vi dico la verità Secondo me si sono fraintesi Perché poi la critica di Roberto Palermo Qual è stata? Quella di Si sono atteggiati un po' a VIP Cioè lui si aspettava Probabilmente di essere considerato di più, no? E invece Loro quando fanno le live A differenza di come le faccio io Che ho pochi iscritti Avendo tanti iscritti Parlano più loro Che rispondere magari agli utenti Ma perché sono tanti Difficilmente rispondono a tutti, no? Gestirle non è facile Fidatevi Quando ne hai tanti Gestirle non è facile Io faccio la mia mitodologia Che rispondo a tutti Però a volte Rimango indietro di una vita E quindi Secondo me c'è stato un fraintendimento Anche perché Io non conosco bene gli altri due Ma per quanto riguarda Daniel Ergoglio Gobbo Posso metterci una buona parola Che non è uno che si atteggia a VIP Parla con me Sponsorizza me Che ho 2700 iscritti Quindi Non è uno che si atteggia a VIP Su questo ci tengo a metterci una buona parola Per il resto Alzo le mani Mi tiro fuori Pronto Roberto Palermo Roby Ciao No ma non sto parlando male di te Ci mancherebbe Sei il mio amico preferito Ridi Mi fai morire Come dici? Eh Dovevano salutarti I ragazzi della crew Della Juve Eh Vabbè Sono sicuro Guarda Sono sicuro che ti saluteranno Perché ti vogliono tutti bene Va bene Ciao 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 Questo tra l'altro Telefono universale Parlo con Godin Parlo con Roberto Palermo Pronto Dani Dani Ergoglio Gobbo Ciao Come stai Come dici? Roberto Palermo vi ha criticato Guarda C'è stato un fronte Ho già chiarito tutto Tanto siete tutti Juventini E anti-allegriani Quindi sono sicuro che Andrete d'accordo Poi anti-allegriani Dipende da cosa combina Va bene Va bene Ti ringrazio Ciao 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 Quindi ragazzi Risolta la prima cosa Che ci tenevo Perché mi piace Mantenere i rapporti Sani con tutti Tranne uno No no Scherzo Scherzo Comunque mi piace Mantenere i rapporti Sani con tutti Anche perché tanto A me non mi ha mai fatto Niente nessuno Quindi Che Se mai qualcuno Mi farà qualcosa Tranne C'è uno youtuber Che mi ha criticato Però non lo nomino Che lui cerca solo popolarità Lasciamo stare Allora Parlando di calcio Adesso ho speso Quattro minuti e mezzo Parliamo di calcio Vorrei parlare Della situazione Suso Charanoglu Che sì Chi tenere Chi vendere Per giugno Già si stanno facendo Queste previsioni Per giugno Ma io a questi qua Ci aggiungerei Anche tutti gli altri Perché Allora ragazzi Partiamo dal presupposto Che noi abbiamo Una situazione finanziaria Che non è che siamo I più ricchi del pianeta Cioè lo siamo Però Abbiamo speso tanto Quindi non vi aspettate Che spendiamo Migliaia e migliaia di euro Non ve l'aspettate In conseguenza Dobbiamo fare un mercato mirato Per come la vedo io Quest'anno Io mi aspetto Un acquisto Uno Uno Un esterno Forte Ma forte Forte Chiesa Zagnolo Douglas Costa Lausanne Cioè Quel livello lì Quelli Ho fatto dei nomi a caso Penso già che arriverà San Maximien San Martè Come si chiama lui Francese Non lo so Lo voglio vedere Io ne voglio uno Proprio forte Proprio già Che vado sul sicuro Vado sul sicuro Sicuro Non uno Che tanto valeva Mi tenevo su uso E c'era No Chiariamo questa cosa Quindi Io mi aspetto quello Un esterno forte Poi il resto Quello che viene Va bene Per le cessioni Parliamoci chiaro Ragazzi Le cessioni Dipendono In primis In primis Dalle offerte Tu è inutile che mi dici Eh dobbiamo mandarvi A Bertolacci Ho capito Ma se nessuno Se lo compra Vogliamo mandarvi A che si Ho capito Ma se arriva L'offerta giusta Cioè Se mi arriva L'offerta Di 30 milioni Perché si Allora ti dico È più È più si Che si Cioè Che glielo posso Anche dare A 30 milioni Se mi arriva L'offerta Da 20 milioni Dico no Me lo tengo Perché poi Con quei soldi Devi comprare un altro Quindi O alzo il livello E quindi Sai Prendo un Milinkovic Da via che si Ti dico Va bene Allora Alziamo il livello Ma se devo Dar via che si Per prendermi un altro Dallo stesso livello Mi tengo che si Inutile che cambio a caso No E mischio le carte Tanto è pure giovane Può crescere Eccetera Poi adesso Non è che perché ha fatto Sta discussione con Biglia Lo dobbiamo dar via Quindi Stiamo fly down Stiamo molto sereni In conseguenza Dipenderà molto Dalle offerte Ma se arriva L'offerta giusta Tranne Secondo me Donna Rumma E il capitano Che quelli sono Secondo me Inamovibili Per il Milan Del futuro E ovviamente Il pistolero Piontek Tutti gli altri Possono partire Se arriva Se arriva l'offerta Giusta Gli altri Possono tutti Partire Così ragazzi Anche Baccaio Co Baccaio Co Va bene Lo riscatteremo Sicuramente Qual è la base Ma se arriva L'offerta Da 50 milioni 60 milioni Io lo vendo Hai visto il muso Io lo vendo Lo stesso vale Per gli altri Lo stesso vale Per Suso Ragazzi Suso Ho già salvato Le ciabbe Tante volte Quindi io L'ho attaccato Quando andavo attaccato Adesso mi sento Di difenderlo Mi sento Di difendere Diamogli tempo Poi anche lì 30 milioni Me lo tengo Suso Se mi fanno Un'offerta Da 30 milioni Me lo tengo Suso Me lo tengo Per 30 milioni Me lo tengo Devi fare Un'offerta Alla quale Non posso Rifiutare Capito Alla quale Non posso Rifiutare Se no me lo tengo E soprattutto Quello che mi tengo Più di tutti È Charanoglu Ragazzi Charanoglu C'ha grande potenziale In mezzo al campo Non come ha Lui non è un'ala Charanoglu Non è un'ala Questo lo dico Dal primo giorno Che ce l'abbiamo Charanoglu Non è un'ala Ma in mezzo al campo Se gli insegna A giocare In mezzo al campo Può fare molto bene C'ha la qualità Per poter stare lì C'ha la corsa C'ha la gamba E c'ha anche L'intelligenza tattica Quindi Diamogli tempo A Charanoglu Che tutti Sta fretta Di voler dar via I giocatori Calma 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 Calmissima Anche lì che mi dicono Dobbiamo dare via RR O Leune O Leune E prendere un terzino Più forte Prima Quando Prima Dobbiamo prendere L'Axalt Poi abbiamo preso L'Axalt Non gioca Non gioca Perché non gioca Perché non gioca Conti E gioca Calabria Conti E' forte Chi vuoi prendere Come terzino Più forti di Conti E' l'Axalt Che adesso L'Axalt Lo denigano L'Axalt E' fortissimo Come terzino Non è Alexandro Va bene Ma è forte Vale uno spinazzola E' inutile che adesso Vale uno spinazzola L'Axalt Perché Più o meno Quello fa Se tu lo metti Alla Juve Fa la stessa prestazione Anzi meglio Quindi I terzini Che spingono Ce li abbiamo Ma Gattuso Non li fa giocare Quelli che spingono Se tu Guarda Se tu prendi Gasperini E lo metti Al Milan Con Conti E l'Axalt Diventiamo Praticamente Un'autostrada Su quelle fasce Un'autostrada Diventano quelle fasce Ma noi Non giochiamo così Giochiamo in maniera Diversa Quindi inutile che insistete Dobbiamo comprare un terzino Non serve L'unica cosa che serve Per il metodo Per la tipologia Di gioco Di Gattuso Che quella sarà E non cambierà Quella sarà E non cambierà Per come gioca Gattuso L'unica cosa che ci serve E' un esterno Che si inventi la giocata Un chiesa Uno che salta l'uomo Si inventa la giocata Fa qualcosa in più In più In più Quello serve Al Milan Un esterno Che faccia qualcosa in più No che resti sulla stessa Mantonella Come Suso Che lui ce l'ha Quel qualcosa in più Meglio ce l'aveva Ma sta giocando meno bene Né Ciaranoglu Che non inventa Cioè Non inventa ragazzi È inutile che ci giriamo intorno Non fa girare Ma deve essere Un'ala deve essere incisiva L'ala deve puntare Deve andare dentro Magari avere un Muriel Un Muriel lì sulla fascia Eh Ma un Muriel secondo me Non lo farebbe manco giocare Gattuso Perché è troppo alto Torna poco Non lo farebbe giocare Lo dico io Non lo farebbe giocare Quindi Ci vuole un esterno Che inventa Va bene ragazzi Per oggi è tutto Continuerò la rubrica Agli altri youtuber Spiavanti Fate i bravi Condividete Spolliciate Ricordatevi che oggi C'è la finale Su Instagram Lo zoccolo duro 2017 Domani Domani Ci sarà La convocazione Per settimana prossima Per vincere il premio Di settimana prossima Ancora non l'ho deciso Sto ancora pensando Ma ci sarà un premio Anche settimana prossima Quindi tenetevi pronti Per la prossima settimana Lo zoccolo duro 2017 Ciao belli